Il 2021 sta ormai volgendo al termine come di consueto e tempo di bilanci nella sede della Prefettura di Biella questa mattina una cerimonia per dettagliare alcuni degli interventi attuati negli ultimi 12 mesi. Nel contempo rendere merito a coloro che si sono distinti con azioni a beneficio della collettività. Due i funzionari dell'arma dei Carabinieri che hanno ritirato il riconoscimento di Cavaliere della Repubblica, il sindaco di Strona Cappio che ha ricevuto il galliardetto del confalone del Comune ed ancora Franco Ferraris, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio che tanto ha fatto per il territorio biellese anche negli ultimi mesi. Una consegna ufficiale che ha evidenziato un'emozione palpabile. Il prefetto Franca Tancredi si insediava il 3 novembre del 2020 in piena pandemia. Al suo arrivo trovò una prefettura svuotata dal covid e dalla carenza di personale che si attesta ancora al 70 per cento in meno dell'organico in forza. Il primo tavolo che ha coordinato è stato quello scuola trasporti per definire la gestione del trasporto pubblico dimezzato ed ancora molti gli interventi messi in campo, 14 protocolli di sicurezza urbana con l'installazione di sistemi di sorveglianza. Biella, Cossato, Candelo che hanno sottoscritto iniziative a contrasto del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti con 150 mila euro di fondi stanziati. Impossibile non ricordare un evento che nel 2021 ha impegnato tutti gli attori del territorio, un dispiegamento di forze senza precedenti, l'incoronazione della Madonna d'Europa, che si è svolta senza intoppi. Al centro però rimangono le disposizioni anti-covid che hanno man mano impegnato tutti i comparti sempre coadiuvati dal prefetto Tancredi. Ne emerge un territorio rispettoso delle regole. E veniamo ai numeri. Dal 6 al 12 dicembre del 2021 sono state 1.616 le persone controllate, solo 7 sanzionate, 222 gli esercizi commerciali, di cui due sanzionati per i quali è stata disposta la chiusura, una misura cautelare. Dal 13 dicembre ad oggi 563 persone controllate, 97 esercizi commerciali, nessuna sanzione. A chiudere il discorso del referente biellese del Ministero Tancredi, gli auguri sinceri, sentiti per tutti i biellesi.